eccoci qua questa mattina parliamo piano pianissimo la domenica mattina sei solo tu sveglio buongiorno perché io sono un pazzo si vede si vede sarà la barba che ti identifica come un pazzoide in pigiama e capelli sciolti perché facciamo una cosa alternativa anch'io c'ho tutti i capelli sciolti il ciuffo dove li hai sciolti io dietro che giorno è oggi antonio allora oggi è il 5 dicembre del 2021 ahimè sono le 7 e 17 e questa è la chiacchierata numero 335 congratulazioni ne è passata di gente allora tra le tue ieri stavamo pensando quando abbiamo fatto la prova dove ci siamo conosciuti ma non ci siamo saltati fuori perché io sono convinto di aver visto un servizio al tg di do di un qualcosa che sta accadendo nel tuo paese e che ti riguarda cioè ti riguarda riguarda il settore dove del tuo lavoro credo di aver capito forse tu ti riferisca a i lupi che abbiamo ormai qua in paese da una ventina di giorni ci sono tre quattro cinque lupi chi ne ha segnalato minimo tre e hanno creato un po di disagio all'inizio c'era il fascino ancestrale del lupo e poi però hanno iniziato un po a creare dei danni ovviamente non è il loro habitat e quindi un giorno ti ammazzano un gatto un giorno ti ammazzano un cane per fortuna sono ancora cuccioli i lupi che che vagano qui nel paesello ora hanno avuto autorizzazione per la cattura e quindi immagino insomma questi difficili che possano tornare in libertà perché sono molto abituati all'uomo si avvicinano all'uomo più dei miei cioè sono più selvatici i miei che ho qui in allevamento e non questi che vagano per il paesello tu hai detto non è il loro habitat possiamo noi che siamo nel loro a seconda che ci sta ci sta ci sta che stiamo scombussolando tutto l'uomo e poi tra l'altro come diceva il buon bucoschi umanità mi stai sul cazzo da sempre forse era animalista pure bucoschi e riterle vista sul cazzo l'umanità che non solo è lui ma l'uomo ne ha fatti di danni e ora vogliamo le mano l'uomo sicuramente crea un danno prima di vero cosa di bello e così così perché l'animale non specula e c'hanno l'animo incorruttibile a differenza dell'uomo quello che ci frega a noi poi abbiamo altri pregi indubbiamente il razziocinio che a loro manca però che si deve fare bisogna convivere bisogna usare l'intelligenza e convivere l'avvicinamento al mondo dei lupi e ai lupi da dove nasce eh allora casualmente io eh vivevo a Firenze ho vissuto quasi quindici anni e facevo tutt'altro faccio tutt'altro eh ho lavorato nella ristorazione prima poi nella grande distribuzione organizzata e poi un bel giorno un bel giorno mi sono appassionato di oddio ho sempre amato i cani infatti quando arrivavano i clienti con con il loro compagno a quattro zampe io uscivo dal 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 retro per andare a salutare non il cliente ma l'animale quindi ho pensato adesso mi devo fare un cane anche io e quindi mi metto un po' alla ricerca di questo di questo cane da prendere e sono stato folgorato dalla dalla storia del lupo ciecoslovacco che a Firenze nel duemiladodici quando l'ho preso io non ce n'era io l'ho trovato casualmente su internet essendo amante del gotico appassionato delle delle storie macabre horror Dracula la Transilvania ecco il lupo ciecoslovacco viene proprio dei carpazzi praticamente fu un esperimento del del di un generale del dell'esercito del dell'ex cicoslovacchia e fece eh questo esperimento con una lupa dei carpazzi e un pastore tedesco e quindi da lì è nata questa razza prima i libri di erano molto vicini vicini al lupo quindi man mano sono stati fatti accoppiare e a e e e sono stati fatti avvicinare di più al al cane perché loro volevano la 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 forza la resistenza del lupo la la capacità di lavoro del pastore tedesco alla fine è una razza molto giovane riconosciuta da Lenci nel 1982 ed è una bella razza tosta impegnativa perché ecco questo è un un lupone un american wolf dog non è una razza per tutti indubbiamente ora io ho avuto una cucciolata ho avuto sei cuccioli una una fattrice me ne ha fatti tre maschietti e tre femminucce in effetti devi essere selettivo anche nel nel trovare i futuri proprietari perché insomma chi non ha mai avuto esperienze con cani magari meglio partire da altro perché loro hanno una percentuale di lupo in effetti e quindi e quindi ci vuole polso ci vuole equilibrio e gli devi stare dietro soprattutto nei primi mesi quello invece che hai fatto vedere adesso è un american wolf dog ancora più il lupo del cieco slovacco lì hai a che fare più con un animale selvatico che con un animale domestico non hanno l'american wolf dog a differenza del lupo cieco slovacco non ha il pedigree perché non è una razza riconosciuta da Lenci ed è legale in italia dalla quarta generazione in poi ecco lì è un passaggio passaggio ulteriore che in effetti in effetti mi rendo conto che ma è tosta però però sa soddisfazione uno perché uno perché vuole un animale più selvatico che autoctono diciamo beh a me mi ha affascinato subito il in effetti hanno quel fascino particolare selvatico ancestrale il lupo è un simbolo per 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 l'uomo per per il mito per le leggende per le fiabe per tranne per la nonna di cappuccetto rosso che gli è andata male però per il resto insomma come mai avevano detto per altri cani tipo il corso cosino che nei primi mesi proprio devi fargli vedere chi comanda perché sennò prendono loro sopravvento è assolutamente il cane corso è sempre è un molossoide quindi sono cani di taglia grande comunque richiedono una certa attenzione è indubbio non sono dei volpini che metti lì anche se tutti i cani poi soprattutto i primi mesi eh devi dedicargli un po più di tempo poi quando sono adulti le differenze si vedono ora io la vecchietta quella che ho preso a Firenze nel duemiladodici che ormai ha a nove anni compiuto nove anni ad agosto e si è molto calmata rispetto ai primi due tre anni è una razza iperattiva quindi eh non è nemmeno sufficiente la passeggiata al guinzaglio mentre vedi un paradossalmente un ehm alano è più da salotto di un Jack Russell non so se è presente Jack Russell che è un cagnolino e quindi eh è così per quanto concerne il lupo la passeggiata al guinzaglio non è un animale da salotto ovviamente eh è bene che tu abbia anche un giardino insomma più che altro non per il fatto il lupo è contento pure se stai in un monolocale ma se tu ci stai ventiquattro ore su ventiquattro con lui loro sentono particolarmente il branco il giardino più che altro ti è comodo ecco quando eh devi andare a lavoro quelle otto ore lo devi lasciare lì perché i primi mesi ti distrugge ogni cosa quindi devi lasciarlo in un posto che non possa farti danni e la passeggiata a guinzaglio non è nemmeno sufficiente loro hanno bisogno di li devi ti devi fare una passeggiata nei boschi li devi far correre li devi far sfogare perché un cane stanco è un cane felice eh sì allora il mio è sicuramente felice perché è vabbè se lui si è distrutto un crociato un menissimo non so che cosa è lì più seduto che altro ma c'è anche 13 anni ma che cane hai? è tipo un pastore australiano di quelli col mantello tre colori ah ma senti non me ne avevi parlato non so che adesso col fatto che correndo dietro al gatto ha fatto una curva un po' più veloce è andato via col posteriore si è scassato un po' la gamba eh immagino la vecchiaia ma anche la mia sta accusando un po' le zampe posteriori eh infatti la devo mettere a dieta vedo che quando si ha un po' l'età un po' il peso la devo mettere a dieta quando si alza le zampe posteriori fatica anche il peso ha aiutato difatti l'hanno messa a dieta e ogni volta che poteva entrare entrava guardava per mangiare no non si può infatti infatti è per il loro bene alla fine cioè anche se ti fanno gli occhi languidi là sotto il tavolo la pizza devi resistere alla tentazione di dargli il pezzetto così e quando eri bambino come vedevi i cani no io ho sempre amati ho sempre avuti ehm poi qui siamo in una realtà molto rurale quindi eh c'è molto verde abbiamo abbiamo siamo siamo tanti lavoratori della terra qui come si suol dire e quindi di cani ne ho sempre avuti però non li ho mai ecco tenuti come come ho tenuto a Dara negli ultimi anni a Dara è la vecchietta che presi a Firenze e con la quale ho condiviso tutto abbiamo dormito in macchina abbiamo dormito nei boschi ovunque l'ho portato ovunque con me rispetto agli altri tre che ora ho altri due lupi cicloslovacchi e il lupo americano che hai fatto vedere prima che loro sono cresciuti qua nel recinto eh quindi sono molto selvatici mentre a Dara sta qui in negozio eh con i clienti che entrano perché è importante anche la socializzazione nei primi mesi essendo una razza diffidente è bene che tu lo faccia socializzare con le persone con gli altri cani eh eh sì allora io volevo quando ho ora da bambino poi a vent'anni me ne volevo andare perché questa realtà cominciava a starmi stretta questo paesello che io amo tanto siamo tra i 1500 anime ehm non 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 volevo più rimanere perché ma è giusto anche così eh io quando sono tornato dopo 15 anni no molti ragazzi che poi ho trovato una nuova generazione Facebook mi ha aiutato ad associare il volto ad il nome perché sono tornato qua non conoscevo nessuno eh tutti i miei coetane poi hanno fatto i loro i loro percorsi ehm e quindi consigli ragazzi varcate insomma fate le vostre esperienze varcate gli orizzonti poi ognuno di noi in base al proprio percorso esistenziale c'è a chi piace la montagna c'è a chi piace il mare a chi la città a chi a chi il verde è chiaro che qui a differenza di una città che offre più stimoli indubbiamente qui gli stimoli te li devi un po' creare e quindi quando hai raggiunto una un'età una tua maturità un tuo equilibrio stai bene ovunque almeno questo è il mio pensiero il passaggio da Firenze a Tolve è stato traumatico molti compaesani mi chiedono ma come hai fatto a Tolve qui da Firenze guarda la decisione la scelta migliore che abbia fatta è stata quella di tornare qua eh perché ma ti posso dire una cosa ehm qui le persone sono più genuine oltre al cibo le persone sono più genuine sarà che nella città si è un numero invece qui conserviamo ancora quei rapporti di una volta capito ehm che purtroppo questo globalismo io non mi ci trovo più non mi ci trovo più eh tendo a non seguire l'attualità perché sennò sovente mi fa incazzare altre volte mi mi strappa delle grasse risate e quindi ormai mi sono mi sono messo qui da solo con i miei lupi e il verde in campagna e non ho bisogno di altro sto qui trecentosessantacinque giorni l'anno lavoro praticamente anche oggi ho aperto poco fa eh perché ovviamente cioè agli animali quindi chi ha gli animali sa bene che comunque deve andare tutti i giorni a dargli da mangiare non esistono le ferie non esistono le ferie ma non mi mancano nemmeno cioè io qui ho ferie lavoro tutto io quando fai qualcosa che ti piace esatto quello importante poi quando come diceva qualcuno quando come lavoro insomma trasformi la tua passione in lavoro non lavorerai un solo giorno della tua vita nonostante anche insomma il lavoro è pesante perché comunque anche fisicamente ti logora nel senso che hai da alzare sacchi di mangime da trenta da quaranta da cinquanta chili quindi certe volte arrivo a casa che non ho le forze nemmeno di far la doccia per dire ed è insomma poi devi aver passione devi avere anche una certa esperienza perché io qui oltre alla pensione per animali quest'estate mi hanno portato di tutto cani corso bovaro del bernese insomma se non hai una certa esperienza se non hai nemmeno la passione per andare lì a spalare cacca devi lavare dei cani quindi insomma io ho imparato ho fatto il corso eccolo la enci nel 2012 a firenze infatti quando presi ad ara ma non perché volevo fare l'addestatore cinofile era proprio per avvicinarmi di più al loro mondo e capire qualcosa in più feci il corso con l'enci ma ti dirò ho impari di più a convivere con un lupo ciecoslovacco tutti i giorni che qualsiasi corso e quindi lei mi ha insegnato tanto e a lei devo tanto perché gli animali segnano più degli esseri umani no ma è così è così ma poi ma in tutti i settori un conto è la teoria un conto è la pratica e quindi è chiaro che ti devi rapportare con dei cani che insomma che anche con la loro stazza potrebbero incutere timore però se capisci i loro movimenti le loro movenze e questo te lo questo te lo insegna insomma la vita coi cani più che di qualsiasi qualsiasi corso che comunque è stato utile per carità quanto animale c'è dentro ogni essere umana caspita questa è una bella domanda dio po me la potevi fare ieri che me la segnavo e questa è una bella domanda mi piace quanto animale c'è allora una bestia una bestia come dicevano gli antichi greci serion aspetta un attimo guarda che arriva i da da milano credevo di vedere doppio due con la barba saluta ida ciao ida ieri lucio ma la differenza ida deve fare sullo schermo la croce e trovare le differenze da uno all'altro ieri infatti la prima cosa che mai detto allora ho trovato uno con la barba più lunga della però nebbiamo abbiamo misurato che ce l'hai un po più lunga tu aspetta a te dove arriva mi equa è più lunga la tua è più lunga eccola è più lunga si si no dicevamo alla quanto animale c'è nell'uomo indubbiamente c'è c'è quello c'è nel limo nel profondo sopita in ognuno di noi poi c'è chi c'è chi si sveglia una bestia feroce a chi e a chi chi la lascia lì che dorme nell'animo e nello spirito e senti non abbiamo io credo che l'animale l'animale uomo potrebbe insegnare tanto alla natura e potrebbe imparare molto di più di quello che può dare sicuramente dovremmo cambiare l'approccio verso la natura di tornare un po ai valori di una volta perché non lo so questo questa tecnologia imperante ormai che galoppa questo globalismo non so ci ha fatto perdere molti valori sani che che conservavano i nostri avi che rispettavano di più la natura rispetto a quanto facciamo noi avevano un rapporto più sano ecco con con la terra con con la natura con gli animali ora o noi ci siamo ci siamo montati la testa sì quello sì indubbiamente ci siamo montati la testa quindi vogliamo dominare il mondo vogliamo dominare la natura vogliamo 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 costruire tutto dove prima c'era un albero vogliamo 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 fare qualcosa di di più di più ho visto non mi ricordo se in trentino dove che hanno abbattuto degli alberi per fare una pista da sci che si 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 trarre profitto da tutto sì 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 infatti così ma in questi giorni noi invece qui stiamo raccogliendo le olive tutto il paese si è mobilitato per la raccolta olive noi qua siamo molto agricoltori ancora se vedi cos'è il bello di del paesello di stare nel verde sono i pro e contro e quindi io amo tutto questo io amo amo il mio paese amo la mia terra ma come ti dicevo prima sono felicissimo di essere tornato nonostante sia stato bene a firenze avevo anche un buon lavoro ero direttore prima in questo locale la ristorazione poi ho fatto lo store manager nel supermercato quindi insomma una bella città una bella situazione però ora se dovessi tornare ora che ormai la veneranda età di 40 l'anno prossimo faccio 40 giugno ma per l'amor di dio non ci tornerei più si corre si corre in città si corre ma in dosi va in dosi corre come dicevano a firenze in dosi corre invece qua è più capito più più calma la situazione si va piano piano per fortuna siamo rimasti un po indietro la lucania da questo punto di vista è un po indietro rispetto ad altre realtà dopo le regioni italia rispetto ai nord cosa ti ha insegnato il mondo animale e come hanno cambiato il tuo approccio ai tuoi simili se lo hanno cambiato mi hanno insegnato l'equilibrio mi hanno trasmesso l'equilibrio mi hanno mi hanno insegnato ad apprezzare tutto ora mi hanno insegnato a ad essere positivo e a ringraziare il sole ogni giorno quando sorge questo mi ha insegnato questo mi ha insegnato questo mi ha insegnato ho feci un post di di il mio compleanno ringraziando tutti quelli che mi avevano fatto gli auguri mettendo la foto del america wolf dog e dicendo qui c'è sirius che se ne sbatte il cazzo del suo genetliaco figuriamoci del mio lui mi ha insegnato a festeggiare il sole che sorge ogni giorno ecco cosa mi ha insegnato quindi ti posso dire che sono una persona felice soddisfatta questo ti insegna il mondo animale poi diciamo anche ide tutti quelli che ci stanno seguendo del perché ci siamo collegati così presto perché ci stanno aspettando questa mattina non ti hanno svegliato nel solito modo ma adesso poi no volevo dire questo anno e mezzo a te ha portato cose belle perché l'apertura del negozio il ritorno proprio dicevi al paese d'origine si 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 assolutamente io sono tornato qui nel 2016 ormai sono cinque anni e poi ho presentato il progetto a il bando che tuttora vigente credo ci sia ancora resto al sud è un bando per l'imprenditoria giovanile nelle regioni del mezzogiorno e quindi presenta questo progetto di questo centro cinofilo perché in effetti è un centro quasi a 360 gradi visto che oltre al pet shop e negozio con pet shop e agri shop quindi trattiamo anche materiale per l'agricoltura trattiamo tutto il mangime zootecnico quindi mangime per suini agnelli cavalli bovini di tutto di più dalle materie prime dal mais dal farinaccio e poi poi abbiamo la toilettatura proprio ieri ho lavato ieri sera lavato un jack russell abbiamo la io chiamo sala veterinaria alla fine o la bilancia pesa cani e il tavolo per le visite insomma ora il veterinario settimana scorsa è venuto a mettere microchip ai miei cuccioletti e poi c'è la pensione animali o il taxi dog anche per il trasporto qualcuno mi chiama per andare a prendere il cane per portarlo di qua di là oppure vienimelo a prendere che lo lascio cinque giorni in pensione io quest'estate nel mese di agosto ho lavorato molto la pensione praticamente tutto il mese la pensione piena andava via un cane ne arrivava un altro e poi c'è l'allevamento insomma anche lì in effetti sta andando bene ora arrivato il primo cliente è di alle 7 e 44 e anche l'allevamento insomma tre maschietti sono già andati via ahimè so piezze core come si dice a napoli sono andati via tre maschietti ora una femminuccia dovrebbe andar via il 13 e poi e poi restano altre due femminucce che ora hanno due mesi poco più come ci si fa a separare dai lo sai come sai già quando vai a prendere un cane sei consapevole che ti morirà prima di te dopo 10 12 anni e quindi però quando arriva io immagino ad ara va bene a 12 13 poi le razze piccole campano un po di più rispetto alle razze più grandi molossoidi campano a dieci anni molossoidi le razze piccole possono arrivare a 18 18 anni quindi immagino ad ara ora c'è 9 anni altri 3 4 anni però sai i pianti quando verrà a mancare le lacrime e così è così e quindi la stessa cosa che i cuccioli sai io non li posso non li posso tenere ho già già quattro però quei batuffoli pelosi vedete per due mesi due mesi e mezzo le abbracciate le baciate le stropicciate e quindi quando vanno via puoi solo augurare loro buona vita e sperare che tu abbia fatto la scelta giusta nel nel futuro proprietario che che verrà a prenderli è questo il lavoro questo è lavoro cioè nel senso così 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 deve essere quanto ci tiene il calda lei la mamma che è particolare a un manto bianco argentato rispetto al manto classico del cecoslovacco le altre due femmine che ho hanno il manto classico lei è bellissima particolare infatti molti mi chiamano per avere il cucciolo così col manto come la mamma se tu vedi il lupo cecoslovacco se hai presenza vedi qualche immagine su internet hanno tutti il manto classico fulvo che hanno preso un po quel fulvo del pastore tedesco lei argentata uno spettacolo è arrivato il primo cliente e quindi dimmi dimmi fammi una domanda non abbiamo ancora ti faccio le ultime domande poi dopo si può andare fare il giro famoso due minuti di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri la prima cosa mi passa per la testa e che voglio lasciare agli altri la prima cosa che mi passa nella testa e buongiorno tonino buongiorno si si sto parlando con vai di fretta se devi fare fai e mi aspetti sì sì portati il il te letto vabbè così ti faccio vedere tutto il branco esatto arrivo allora scusa il bello della diretta quando arrivano i clienti verso i da quando dovrai ritrarmi nelle tue foto voglio voglio la testa da lupo dai facciamo così la trasformazione luce un problema mi sta avvenendo un sacco di gente adesso lo sai perché non è un problema di mattina altro che le set dovevamo fare le 4 di mattina riesce ad avere cinque minuti cinque minuti per andiamo a vedere il blanco e faccio vedere il blanco e basta intanto mi dici progetti che hai da oggi ai prossimi sei mesi intanto che ti prepari i progetti che o è quello di invecchiare qua punto ad avere il ciuffo bianco come il tuo qui sulla barba che ora ce l'ho ancora rossiccia quindi quindi progetti ormai ho già ho già ho già completato quasi tutto devo solo sistemare la casetta qui al piano di sopra al negozio c'è una casetta ancora tutta da rifare perché abbiamo investito tanto qui nell'attività e quindi per la casetta se ne riparla fa dieci anni fra venti ma tanto io sto bene lì con la brandina mi sono fatto la brandina la stufetta te l'ho detto mi sveglio con l'ululato dei lupi la mattina e ora te li faccio vedere così così servono pure allora aspetta devo quindi devo avviare qua entra in studio eccomi qua allora adesso si schiaccia schiaccia faccio io tutto da qua intanto fai tu una domanda a me faccio una domanda a te entra dentro intanto quanto animale c'è in te ecco ti e quale animale ti ti caratterizza di più allora io sono un incrocio tra un bradipo già un incrocio e vuol dire se un bastardo dentro nel lì nell'animo tra un bradipo e un e uno un orso direi bello bello beh allora e invece io ti faccio vedere lei adara e qui abbiamo tutti i cuccioletti ora lei e capobran tu guarda guarda come si comportano col capobranco che entra che la vecchietta comanda eccola qua eccola è tutto bloccato non ti vedi adesso si lo vedi ehi buongiorno ai piccolini buongiorno ai piccoli no 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 non mi rompete ecco lui è e sirius american wolf dog eccola qua questi sono sono le tre femminucce che sono rimaste i tre maschietti sono già ti volevo far sentire l'ululato ma stamani non è possibile aia mi distruggono tutto sai che qua è impossibile ormai conservare un pantalone intatto se già tutti i pantaloni bucati poi soprattutto i dentini da latte che giovani cuccioli sono affilatissimi fanno più male i denti da latte che i denti da tutto eccoli quali vedi tutti si 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 vedono bene si camuffano con l'ambiente c'è lei che la mamma questa argentata e poi ci abbiamo lei e la sorella vedi c'è il manto classico e lui è l'american wolf doc che diffidente guarda come va via io mi avvicino e li so lontani e i piccoli le piccoline ciao buongiorno 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 questo questo è tutto il mio mondo ti faccio l'ultima domanda e ti lascio andare dopo ti ringrazio sì che c'ho gente da servire adesso domani mattina mi alzo e domani mattina mi alzo e e so che devo correre più dei lupi perché i clienti pretendono più di loro esatto 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 quindi devo correre più dei lupi per spalare cacca tanta cacca e servire la gentile clientela vedi che qui c'è già due persone che mi aspettano andiamo 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 ciao lucio ti saluto il taxi dog il taxi dog guardo lucio la via come aspettano intanto ringrazio ringrazio antonio ringrazio ida ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato e che ci guarderanno da domani in poi sul canale youtube miraggio di lux io ti farò avere il link e potrai condividerlo con chi vorrai grazie lucio è stato un piacere buona domenica ciao antonio altrettanto a te ciao 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 a tutti